Una vittoria tanto meritata quanto importante. Sì, effettivamente questa vittoria è molto importante, c'è da complimenti alla squadra. Siamo partiti davvero male subendo un gol con una grossa disattenzione in difesa, però mi sembra che la risposta sia stata. Quindi è un passo importante verso la salvezza. Però io voglio sempre cogliere anche l'occasione di dire che questa è una squadra costruita per fare cose più importanti. Quindi penso che queste partite future serviranno a far vedere cosa potremmo fare per migliorare la Sifia. Perché il nostro obiettivo è riportare il gruppo Solma, il nostro sponsor, in Italia con onore e sapendo di avere una squadra che ogni domenica fa il suo lavoro. Ingegner Manzi è influenzato, siamo sentiti, siamo molto contenti della vittoria e molto vicino alla società. Grazie.